Salve a tutti, in questo video vediamo come sconfiggere il boss della torre della congrega del fuoco perenne. In modo semplice, se siete comunque di livello 50, avete un po' tutte le armi migliori, soprattutto l'armatura assolutamente migliore, questa qua del metallo pal va benissimo, lo scudo terra, insomma l'importante sono gli scudi. E soprattutto Frostalion, che è il pal che vi serve, l'unico pal che vi serve in realtà, anche se qui ho tutto il team alla grande, Jetragon e Frostalion, ho fatto un video su come catturare Frostalion, quindi quello è l'unico pal che vi serve per battere facilmente questo boss. E niente, come ho detto, le protezioni perché non si sa mai. Munizioni sì ma neanche troppe, quindi munizioni del fucile d'assalto, consiglio, e del fucile a pompa più che altro. Bene, la torre si trova qua a sinistra, qui, quindi andiamoci e dovremo temporaneamente indossare la pelliccia per il calore, qui ho sbagliato, la dovevo indossare dapprima, ma mi raccomando una volta che siete dentro la torre rimettete l'armatura in metallo. Ed ecco qua adesso il combattimento con Axel e Orser, cosa fare? Allora io inizialmente avevo provato con Jetragon, che sì, funziona, però gli toglie meno di Frostalion, da quello che ho visto, quindi qua rimetto l'armatura. L'importante è, ecco, non stare nel mezzo, ma correre intorno alle colonne, lasciare che siano loro a scannarsi, non avranno problemi di energia né Jetragon né Frostalion. Quando li sparate, sparateli sempre in testa, per ottimizzare i danni. Frostalion lo andrà anche a ghiacciare, quindi vi consentirà di avvicinarvi più in tranquillità, ma quando non avete più gli scudi, come in questo caso, consiglio di allontanarvi e di recuperare. Non rischiate di perdere l'energia. Ecco, adesso lo scudo sta ritornando su, quindi posso riavvicinarmi e magari dargli anche addosso con un po' di fucile a pompa. Controllate più che altro il timer, se vedete, come in questo caso, 7 minuti e sono a più di metà, va benissimo, non importa spararli troppo. Se, per qualche strano motivo, il vostro pal si inceppa, richiamatelo e rimandatelo. E tenete, insomma, d'occhio questo rapporto fra tempo rimasto e energia rimanente del nemico. E qua, vedete, Frostalion sta finendo il lavoro, io aspetto tranquillamente, senza sprecare altre munizioni. Ed ecco qua, boss sconfitto. Un saluto. Grazie.